buongiorno a tutti buongiorno vedo che oggi ci siamo in tanti la cosa mi fa molto piacere oggi parleremo del modulo del piping di inventor professional l'appuntamento di oggi è una webcast quindi diciamo sarà una mezz'oretta tre quarti d'ora più o meno per farvi vedere un pochettino che cosa si può fare con inventor per quanto riguarda appunto il modulo dei tubi e delle tubazioni non sarà un corso sarà giusto per farvi vedere diciamo le funzionalità che ci sono disponibili poi se volete approfondire queste cose con un corso chiaramente noi siamo super disponibili basta che ci contattiate e troverete tutte le vostre risposte alle vostre domande due parole su di me prima di iniziare con questa webcast sono riccardo facin lavoro in nke da quasi quattro anni e mi occupo prevalentemente di formazione faccio infatti corsi su inventor di modellazione corsi di fusion 360 sia per la parte di modellazione che per la parte di generative design mi occupo anche di installazioni quindi di installazioni ad esempio della nuova release di inventor quindi per adesso c'è ancora la 2022 però tra un paio di mesi anche un po meno uscirà la nuova release di inventor che sarà la 2023 quindi nel caso magari ci vedremo anche dal vivo per un'attività presso di voi come un'installazione magari mi avete sentito anche in assistenza telefonica che è un altro servizio che forniamo ai nostri clienti e poi appunto come oggi mi occupo anche di fare webinar ed eventi live magari in futuro saranno un pochettino più frequenti quelli live rispetto a quelli online partiamo con la nostra webcast sul modulo piping una breve scaletta di quello che vedremo oggi partiremo da un'introduzione cercheremo di capire qual è la logica con cui inventor va a raggruppare i vari le varie tipologie di tubazioni che mettiamo nel nostro nel nostro assieme capiremo poi gli stili con cui inventor va a generare i tubi e quindi anche a modificare anche se li ho già inseriti determinate tubazioni la generazione dei percorsi quindi dei percorsi che possono essere ad esempio automatici piuttosto che semi automatici e poi concluderemo con la parte di personalizzazione quindi la possibilità di creare anche dei tubi personalizzati secondo le vostre esigenze quindi partiamo con l'introduzione e la primissima cosa che è bene spendere due parole è la licenza quindi se voi avete una licenza la ormai famosa manufacturing collection siete a posto ok nel senso quindi avete autodesk inventor professional e quindi il modulo piping è incluso nel vostro inventor anche se avete solo l'inventor professional però importante che sia professional allora potete accedere tranquillamente al modulo al modulo del piping mentre invece se avete ancora una vecchia suite premium che prevedeva solo l'inventor base ecco in quel caso non c'è il modulo del piping quindi probabilmente se avete questa tipologia di licenza non vi troverete anzi sicuramente non vi troverete questo modulo e nel caso vi vi serva magari ce lo fate sapere che ci sono varie possibilità di tramutare questa vecchia licenza ad esempio in una in una nuova collection per quanto riguarda il piping quindi lasciando perdere la licenza ma entrando proprio nel vero proprio succo del discorso una volta che ho creato il mio assieme ovviamente senza le tubature posso andare a creare appunto con il nostro modulo se vogliamo intelligente del piping di inventor un unico assieme in cui ci saranno presenti tutte le varie tubature che voglio inserire nel mio assieme un ambiente un assieme unico adattivo ovvero poi vi farò vedere anche con un con un breve video che se vado a modificare i punti di inizio e di fine del mio percorso piuttosto che dei punti di passaggio interni come ad esempio dei cavallotti e via dicendo che ho nel mio assieme la mia tubazione del piping si va ad adattare al nuovo percorso chiaramente se sono piccole variazioni non ci dovrebbero essere grossi problemi in caso di grosse grosse variazioni potrebbe essere che debba ricalcolare il percorso e quindi mandarlo a modificare in in locale quindi già avete capito che il fatto che ci sia un assieme adattivo è una cosa che va a un po ad appesantire il nostro file generale di assieme in più il fatto che come andremo a vedere poi l'ambiente piping va a generare molti molti file all'interno del nostro assieme è importante lavorare bene con inventor ovvero avere uno schema ben preciso come gerarchia del nostro assieme quindi possibilmente avercelo in diversi macro livelli quindi non troppi file non troppi non troppe parti al primo livello nel nostro assieme possibilmente dei dei sottogruppi ben strutturati e se proprio sto lavorando con assimi di grandi dimensioni la possibilità di utilizzare sostituti e semplificati è chiaramente un grosso vantaggio perché mi va ad alleggerire sicuramente tutto il workflow di generazione dei tubi come vi dicevo ci sono un sacco di file che vengono creati adesso andremo a vedere che file vengono generati da inventor chiaramente questi file possono essere rinominati a mano dall'utente o secondo delle logiche ad esempio che si vanno a impostare nelle opzioni applicazioni piuttosto che se ho una codifica automatica nel volto assolutamente questi file seguono questo tipo di codifica posso andare ovviamente poi anche a impostare un certo numero parte per tutti i file che vengono creati di modo che la mia distinta sarà effettivamente come la voglio andiamo avanti e cerchiamo di capire un pochettino come viene strutturato lato browser il nostro assieme del piping come vi dicevo una volta che entriamo nel modulo piping che trovate nella riga dei comandi nella voce ambienti modulo tubi e tubature appena cliccate su quel comando subito vi crea un assieme generale in cui tutti i file di tipo piping che noi andiamo a creare che comunque sia sono sempre file IAM o IPT quindi nessun nessun file strano solo che avranno delle logiche ovviamente un pochettino diverse dal classico IPT vi dicevo va creato subito inventor vi chiede di creare un assieme grosso generale al primo livello in cui ci saranno dentro tutte le tubazioni tutte le tubature a questo punto una volta creato questo assieme tutte le varie sottocategorie quindi tutti i vari percorsi e le varie tubature vanno raggruppate in un assieme di condutture quindi io posso creare ovviamente più assieme di condutture e non c'è una teoria unica e univoca per cui diciamo distinguere una conduttura da un'altra però una buona logica potrebbe essere quella di differenziare le condutture ad esempio per il fluido che ci passa dentro quindi ad esempio se una conduttura ci passa dentro del gas piuttosto che ci passa dentro dell'acqua sicuramente faranno parte di due condutture diverse un altro un'altra logica per cui dividere le condutture è se queste condutture anche se magari sono percorse dallo stesso fluido ma interessano regioni differenti del mio impianto del mio del mio assieme quindi magari due percorsi che non scambiano lo stesso lo stesso liquido quindi non fanno parte di uno stesso ricircolo magari può avere senso differenziarli in due condutture diverse chiaramente poi sarà tutto a mio vantaggio quando poi magari dovrò fare delle modifiche con più assiemi vado subito a capire qual è la zona che mi dà problemi o che voglio modificare detto questo dentro ciascuna conduttura io poi andrò effettivamente a popolare i miei percorsi quindi percorsi che chiaramente vanno da un componente ad un altro secondo magari determinati percorsi piuttosto che determinati punti di passaggio la cosa importante è che in ciascuna conduttura ci dovrà essere lo stesso tipo la stessa tipologia di tubo e adesso andremo a vederlo con gli stili che cosa vuol dire questa cosa ma stessa tipologia di tubo ma anche un differente diametro quindi ad esempio se dovessi avere una diramazione a t ad esempio con anche una riduzione in quel caso io potrei tenere tutto chiaramente nella stessa conduttura perché il percorso alla fine il fluido è lo stesso e ovviamente c'è il ricircolo di fluido ma anche con un diametro differente quindi andiamo a capire quali sono le macro categorie di tubi che vengono gestiti da inventor nel modulo piping e come vi dicevo sono di tre tipi ci sono i tubi flessibili che sono sostanzialmente i tubi in gomma dove ci può essere ci può non essere il raccordo iniziale ma il percorso viene sostanzialmente sempre quasi generato in maniera automatica si tratta sostanzialmente di una spline 3d quindi di una linea curva nel vostro spazio tridimensionale che unisce il punto iniziale del vostro raccordo quindi il vostro tubo e il punto finale ci sono poi i tubi piegati quindi ad esempio mi viene da pensare i tubi quelli in rame o quelli ad esempio del gas tutti i tubi che quando c'è una curva questa curva viene fatta con una macchina piegatubi e quindi non hanno bisogno di raccordi per quanto riguarda le curve chiaramente queste curve possono avere qualsiasi angolazione il raggio di piega fa parte del nostro stile e quindi poi sarà una di quelle opzioni che vado a settare ovviamente per il mio stile ma localmente lo posso anche cambiare la terza tipologia e ultima che c'è in inventor sono i tubi rigidi con raccordi i tubi rigidi con raccordi generalmente raccordi gommiti a 90 gradi ma come vedete dalla foto ci sono anche i gommiti a 45 gradi o ad angoli personalizzate quasi se volete un pochettino più particolari però la cosa importante che questi tubi sono tubi rigidi quindi quando poi devo fare una curva entrerà dentro in automatico un raccordo a gommito ad esempio 90 gradi tuttavia è possibile anche andare a specificare localmente quando devo fare una curva particolare che in quel caso ci sia una piega anziché la presidenza di un raccordo quindi è una sorta di mix tra la possibilità di avere un raccordo e una piega chiaramente questa tipologia di tubo prevalentemente utilizzerà il raccordo rispetto alla piega altra cosa importante specialmente quando lavoriamo con i tubi rigidi con raccordi è la tipologia del tubo quindi la tipologia della connessione tra un tubo e un altro piuttosto che tra un tubo e un raccordo quindi stiamo parlando di tubi flangiati tubi che vanno saldati tubi filettati quindi chiaramente andare ad accoppiare la giusta tipologia di tubo con la giusta tipologia di raccordo è ovviamente fondamentale vedete che avete un sacco di normative sul sulla vostra sui vostri stili già preimpostati chiaramente si possono andare a personalizzare quindi ciascuno stile si può andare a modificare sia per quanto riguarda i componenti quindi vado a cambiare la tipologia del tubo ad esempio vado a cambiare la tipologia del raccordo posso andare a cambiare ovviamente il diametro quindi andando a modificare lo stile sotto vedete che ho la possibilità di andare lo faccio vedere qui quindi la possibilità è di cambiare il diametro sia vedere il diametro come nominale e schedula inventario quindi lo spessore del tubo sia invece andarlo a cambiare per quanto riguarda il diametro esterno e interno quindi stessa cosa ma guardando da un punto diverso altra cosa che posso cambiare l'aspetto del componente quindi se magari devo differenziare ad esempio il tubo dell'acqua calda dal tubo dell'acqua fredda può aver senso crearsi un altro stile identico perché magari il diametro è lo stesso la tipologia del tubo è uguale ma semplicemente andare a cambiare il colore quindi magari metterne uno blu e l'altro rosso giusto per far capire anche a chi deve guardare questo file questo è il percorso dell'acqua calda questo è il percorso dell'acqua fredda e magari non si incrociano neanche mai vi dicevo poi quando ovviamente devo trattare un tubo di quelli piegati posso andare ovviamente a cambiare il raggio di piega e quando poi ho un tubo di quelli rigidi o anche comunque piegati posso definire chiaramente qual è la lunghezza massima e minima del tubo quindi ad esempio se so che il mio fornitore mi dà questi tubi in verghe da sei metri io non posso prevedere che ci sia un tubo lungo otto metri e quindi inventor una volta che raggiungiamo ipoteticamente sei metri di tubo rettilineo poi mi metterà un esempio un manicotto sia previsto dal mio stile che va a giuntare il tubo precedente col tubo successivo ovviamente se sono sempre nella stessa sulla stessa direzione andiamo avanti generazione dei percorsi quindi prima cosa vado a definire chiaramente i miei stili ok chiaramente ciascuno stile oltre a essere modificato può essere ovviamente copiato e quindi lavorare sullo stile nuovo una volta appunto definiti questi questi stili io chiaramente posso andare a generare finalmente il mio percorso quindi mi sono creato la mia conduttura creo il mio percorso e a questo punto ho diverse scelte un percorso totalmente automatico quindi generalmente si fa con il tubo flessibile in cui si dà il punto di inizio il punto di fine inventor mi traccia una spline all'inizio ovviamente cercherà di farmi il percorso più breve possibile ma io poi potrò inserire dei vari punti di controllo ma poi farò vedere nel video in cui gli dico devi passare da qui piuttosto che da qua semi automatica che invece di solito è quella che si utilizza per ad esempio i tubi piegati piuttosto che con i raccordi anche ovvero dove se io volessi dare un determinato percorso a un tubo piegato io posso iniziare a darglielo magari dando determinati spostamenti e coordinate quindi vado a dare una direzione non lo so per dire ortogonale a un certo punto e via dicendo e a un certo punto dico va bene da qui che ho fatto il mio percorso manuale arriva fino in fondo in maniera automatica inventor mi proporrà dei vari possibilità di chiusura del mio percorso secondo delle curve che sono ammesse se fosse ad esempio un tubo con raccordi quindi se fossero solo 90 gradi magari ho un pochettino più di difficoltà rispetto che magari un tubo piegato in cui posso mettere ovviamente la piega che voglio io oppure totalmente manuale quindi volta per volta vado a darmi tutti gli spostamenti fino ad arrivare in fondo al mio al mio raccordo finale e arrivo a completare tutto il percorso in maniera totalmente manuale simile alla generazione di un percorso totalmente in maniera manuale posso chiaramente sfruttare uno schizzo 3d quindi vado a realizzarmelo a parte su una parte esterna e poi vado a sfruttare il comando di percorso derivato che mi va a popolare un percorso già realizzato come vi dicevo una volta che ho dato i punti iniziali finale comunque poi posso andare comunque a modificare il mio percorso una volta fatto quindi specificare i punti di passaggio piuttosto che la distanza da una certa faccia inserire raccordi in un secondo momento anche quindi una volta che ho generato ad esempio un percorso con tubo rigido e con dei raccordi posso andare a posizionare una mia t magari in un percorso chiaramente da un certo punto ci sarà il tratto rettilineo ci posiziono la mia t chiaramente lì avrò un altro connettore in cui io potrò far partire un altro percorso da quel connettore a t magari come vi dicevo poteva essere anche una t di riduzione e arrivare a un altro è un altro connettore come vi dicevo tutto l'assieme piping ma quindi a maggior ragione ciascun percorso è adattivo quindi poi eventuali spostamenti degli dei nostri oggetti a cui ci siamo agganciati vanno poi a influenzare la posizione del nostro tubo vi faccio vedere questo piccolo video che riguarda la generazione di un tubo flessibile quindi vedete che ho posizionato già il mio assieme completo in più ho inserito una parte quella verde che è un cavallotto vado nell'ambiente piping e inizio a creare la mia prima conduttura quindi la mia prima conduttura ad esempio la chiamo acqua calda e poi vi dico che la voglio flessibile quindi già per farmi capire subito nel nome ci scrivo flex ovviamente voi non siete obbligati a farlo ma giusto per una questione di chiarezza vado nella parte di stili ovviamente vado nella parte del tubo flessibile che è quello che mi interessa adesso ne attivo uno e poi lo posso anche andare a modificare posso andare a modificare la tipologia del tubo posso andare a modificare ovviamente il diametro e l'aspetto che in questo caso lo lascio lo lascio così com'è a questo punto vado a crearmi il mio nuovo percorso chiaramente vedete che ogni volta viene creato un file se volete sempre più locale sempre più dettagliato fino poi alla ai veri file che sono gli pt che sono ovviamente tratti dal centro contenuti per quanto riguarda i raccordi e tutte le eventuali tipologie di giunzioni e il tubo che viene creato in questo momento in maniera automatica quindi ho semplicemente agganciato i due punti iniziale finale e inventor subito mi va a popolare con il tubo di gomma il tubo flessibile a questo punto gli vado a dire che devo passare attraverso un determinato punto e quindi vedete che si modifica il percorso che comunque mantiene sempre la sua tangenza perché è una spline 3d e chiaramente appena esco dal percorso lui mi chiede eventualmente come voglio chiamare il mio file pt e come voglio andare a impostare il numero parte quindi se lo voglio prendere dal centro contenuti se lo voglio personalizzare se lo voglio lasciare vuoto e via dicendo ora a questo punto ho fatto il mio il mio percorso quindi il mio passaggio dal dal cavallotto e voglio modificare la posizione del cavallotto quindi ovviamente io qua gli ho messo un parametro e modificando la posizione di questo punto di passaggio chiaramente vedete che il nostro siamese essendo adattivo va ad aggiornarsi in tempo reale modificando ovviamente il percorso poi magari voglio spegnere la visibilità dello schizzo tridimensionale e ho ottenuto il mio primo tubo flessibile quindi come avete capito i tubi flessibili sono quelli anche un pochettino più semplici da realizzare chiaramente perché chiaramente il percorso se volete lo fa quasi tutto inventor poi eventualmente io posso andare a inserire dei punti di controllo nella mia spline e andare a modificare questi questa spline che viene generata sappiate che nel tubo flessibile c'è anche la possibilità di fissare o di specificare comunque la lunghezza del nostro tubo il nostro tubo che può essere generalmente anche arrotondato secondo certi valori quindi sono tutte cose che si vanno a impostare negli stili quindi ad esempio se voglio che il mio tubo sia un multiplo di due millimetri non mi proporrà mai la lunghezza di un tubo 517,3 ma mi dirà 518 ok come esempio chiaramente io poi posso allungare anche la lunghezza di questo tubo qua quindi il tubo diventerà un pochettino più aumentare un pochettino la ricchezza di questo tubo un pochettino più lungo piuttosto che tirarlo un pochettino e farlo un pochettino più più tirato chiaramente rispettando tutti i punti di passaggio che gli ho dato andiamo a vedere adesso il tubo scusate un attimo che c'è questo puntatore andiamo a vedere il tubo con le pieghe ok quindi la prima tipologia di tubo l'abbiamo vista che il tubo flessibile andiamo a vedere la tipologia del tubo piegato anche qui andiamo a crearci una nuova conduttura e ad esempio la chiamiamo perché ci passa dentro del gas gas chiaramente voi potete chiamarle come volete generalmente questi file non vengono messi in distinta componenti però chiaramente inizialmente sono nascosti ma poi io posso darli a rendere accesi piuttosto che visibili o non visibili in questo caso ho clonato uno stile ok quindi chiaramente la cosa importante poi è capire con quale stile sto lavorando nel mio nel mio file poi vi dirò che questi stili sono anche chiaramente personalizzabili e se avete ad esempio se avete sicuramente design data il centro contenuti localizzati su server nella vostra azienda sono condivisi ai vari utenti e si possono impostare anche sul vostro template quindi ci siamo creati un nuovo stile e andiamo a generare un percorso di un tubo piegato quindi facciamo un nuovo percorso e a questo punto vedete che ho una linea su cui posizionare il mio primo punto quindi cliccando a una certa distanza mia scelta su questa linea io vado a realizzare il mio tubo su una linea poi perpendicolare vado a fare il mio secondo segmento vedete che inventor mi ha già fatto la piega la piega ovviamente ha un certo raggio secondo il nostro stile a questo punto gli dico che voglio fare un percorso automatico e chiaramente essendo un tubo piegato non assume la spline di prima ma fa dei tratti rettilinei con delle pieghe chiaramente sempre seguendo il nostro stile mi propone due tre percorsi a volte anche di più magari qualcuno con linee sempre perpendicolari tra di loro altri invece che sono il percorso più corto quindi a me sta a scegliere quale è meglio per me chiaramente tutte le le quote che magari prima ho messo a mano libera le posso andare a impostare anche in un secondo momento quindi modificando questo schizzo 3d come se fossero delle quote vere e proprie avete visto che posso modificare anche il raggio di piega quindi uscire dallo stile diciamo classico e andare in locale modificare quella piega in maniera diversa e modificare anche la il percorso automatico quindi scegliere magari una soluzione alternativa rispetto a quella che ho scelto prima a questo punto chiudo il percorso perché mi piace ma mi rendo conto che il diametro non è corretto nessun problema vado nel mio stile lo modifico scelgo un altro diametro magari ci cambio anche l'aspetto perché devo far capire che questo tubo ci passa un gas piuttosto che un altro comunque perché semplicemente ha un aspetto diverso e in tempo reale ovviamente si modifica il mio il mio percorso meglio viene popolato da una tipologia di tubo differente semplicemente in questo caso con un diametro più grosso e con un aspetto diverso ma chiaramente ovviamente state attenti perché se avevate più tubi appoggiati su quello stile si vanno a modificare tutti quei tubi quindi occhio a differenziare eventualmente dei percorsi con un certo stile piuttosto che da altri concludiamo con l'ultimo video che riguarda i tubi piegati quindi vado a crearmi sempre una nuova conduttura quindi vado a differenziare ulteriormente il mio assieme vi ricordo che quando vado a cambiare la tipologia di tubo quindi da flessibile piegato a rigido con raccordi questo è ripartito il video di prima ok tubo rigido con raccordi ok parti scusate e quindi vado sempre a crearmi la mia nuova conduttura vi dicevo quando devo cambiare la tipologia di tubo quindi da piegato a rigido con raccordi assolutamente devo utilizzare una nuova conduttura ok quindi questa è una regola importante quindi vado sui miei stili e ad esempio nel tubo rigido con raccordi vi dicevo ci sono quelli che sono saldati ci sono quelli che sono flangiati quelli che sono filettati quindi occhio alla tipologia posso cambiare ovviamente sia il diametro che la schedula secondo ovviamente una certa tabella dei tubi già creati in inventor queste sono tutte tipologie di tubi standard in inventor chiaramente poi c'è la possibilità di andarsi a personalizzare il nostro il nostro tubo vado sempre a crearmi il mio percorso parto sempre dal mio punto iniziale posso specificare subito la distanza se non avete visto che si può fare sempre in un secondo momento come se fosse una quota 3d vado a impostare un certo valore quindi poi posso scegliere di ruotarmi ok quindi lungo un certo una certa direttrice ok in questo caso mi vedete che mi va a mettere un raccordo ma se io gli dico piega personalizzata a questo punto posso mettermi all'angolo che voglio io posso ovviamente specificare il raggio di piega e una volta che faccio clic sulla distanza che mi interessa a me questa piega viene realizzata ovviamente senza la presenza del raccordo perché non esiste il raccordo che esce con quell'angolo chiaramente poi appena ritorno a mettere un oggetto in maniera perpendicolare ritorna il posizionamento con il raccordo e poi posso chiudere il mio percorso in maniera automatica quindi ho vedete che in questo caso mi propone quattro scelte quella la prima che ci propone solitamente sempre quella più breve ma magari io posso cambiare sceglierne una piuttosto che un'altra non è detto che quella più breve sia sempre la migliore quindi vedete che in automatico ci va a posizionare dei raccordi questo stile ad esempio prevedeva dei raccordi a 45 gradi quindi mi ha messo anche un raccordo a un gommito a 45 gradi ora magari non mi piace l'aspetto di questo di questo tubo lo posso andare a modificare quindi vado vado tranquillo e riesco a a modificarlo quindi magari non ci piace solitamente solo l'aspetto sfrutto comunque lo stile quello che ci propone inventor senza senza andarmene a creare io uno uno un tubo differente chiaramente noi stiamo modificando solo l'aspetto quindi il peso dei nostri oggetti il materiale resta quello vedete che dal centro contenuti io posso inserire poi diverse tipologie di elementi quindi con il comando di posiziona io come se andassi a posizionare dal centro contenuti ad esempio in questo caso una una determinata valvola attenzione perché potrebbe essere che secondo ovviamente la normativa di questa valvola non sia presente il diametro corretto per quanto riguarda il nostro tubo e inventor ci avvisa perché qui dice tipo dimensione nominale e anche il trattamento di estremità perché magari questa valvola una valvola filettata questo tubo è un tubo che non è filettato e quindi non non sarebbero tra virgolette compatibili se lo voglio posizionare dal mio locale posso fare posizionare accordo altrimenti vado su posizionare centro contenuti scegli un'altra tipologia di valvola che fatta l'età in questo caso prevede il diametro corretto quindi non c'è l'auto adattamento del diametro come le viti del centro contenuti devo essere io a mettere la valvola o la t o qualsiasi altro raccordo del valore corretto ok quindi mi raccomando state attenti su quello ve la fa mettere comunque quindi sarebbe non proprio bellissimo però ovviamente non non fitta se sono di due diametri diversi quindi posiziono la valvola possibilmente metterla a una determinata distanza da un inizio alla fine posso poi eventualmente modificarla in un secondo momento ad esempio con l'orientamento o meno quando la vado a inserire vedete che se la dovessi spegnere in visibilità il tubo sotto ovviamente è tagliato una volta che secondo ovviamente le regole di offset che ci sono dentro nella valvola e nel e nel tubo chiaramente dal momento che io poi magari in un futuro vado a eliminare quella valvola piuttosto che il raccordo che c'è qui il tubo poi ritorna un tubo intero quindi anche qui avessi poi in un secondo momento eliminato quindi non spento in visibilità ma io rimosso questa valvola piuttosto che questo manicotto il tubo viene riunito quindi è un tubo unico quando ovviamente il percorso è rettilineo ok parliamo di tubi personalizzati quindi la prima domanda classica che ci viene fatta è ok quando avete visto la lista di diametri disponibili non c'è quello che piace a me o non c'è ad esempio ce l'ho in pollici lo voglio in metri poi via dicendo chiaramente quelle tipologie di lista di diametri dipendono ovviamente dallo stile e dall'i part che è stata creata da autodesk per fare quella normativa quindi probabilmente se non c'è una certo un certo diametro perché non è provisto da quella normativa nessun problema io mi posso creare un tubo personalizzato chiaramente come ai part tubo ma potrei fare ovviamente poi insieme al tubo anche la curva 90 gradi e via dicendo quindi raccordi e tutto quanto vi dicevo se lo creo come ai part io poi quando vado a posizionare questo oggetto con ovviamente dopo che l'ho pubblicato nel mio stile quindi vado ad aggiungere questa parte nel mio stile chiaramente poi la lista è esattamente quella che che gli ho detto io quindi posso cambiare ovviamente il diametro nominale posso dargli diversi valori di schedula e via dicendo idem anche ovviamente tutta la storia delle proprietà quindi numero parte descrizione e via dicendo quindi non vi starò a far vedere qua perché vabbè non è un corso e giusto che anche per le tempistiche non possiamo star dietro alla pubblicazione di una parte nel centro contenuti però sappiate che è un percorso guidato ok quindi man mano vi chiede lui ok definisci il punto di inserimento definisci quale dei vostri parametri il vostro diametro nominale sono chiaramente è argomento di di un corso chiaramente poi una volta che ho pubblicato questo elemento nota bene per pubblicare un elemento nel vostro centro contenuti dovete per forza avere una libreria personalizzata in lettura scrittura altrimenti non ve lo fa pubblicare chiaramente le librerie di inventor sono librerie in sola lettura quindi se devo pescare qualcosa dai dai tubi standard di inventor piuttosto con diverse normative quindi ansi piuttosto che di in iso e tutte quante va bene se devo mettere qualcosa di personalizzato tassativo ci deve essere una libreria di centro contenuti in lettura scrittura chiaramente se questa libreria poi è condivisa con gli altri utenti ad esempio col volto sicuramente poi ce l'avranno anche gli altri e altra cosa importante gli stili che io vado a modificare gestire quelli che diciamo si appoggiano sulle varie parti che abbiamo pubblicato nel centro contenuti quegli stili si possono impostare anche a livello di template non è proprio il template dell'oim che voi generare tutte le volte però lo trovate per la cronaca nella cartina di design data ma se vado chiaramente nella cartina di design data ad impostare determinati stili non dico preferiti ma sicuramente quelli più utilizzati dalla volta dopo che tutte le volte che faccio operazioni sul template avranno influenza da qui in avanti mai all'indietro però tuttavia io posso comunque esportarmi eventuali stili in xml ed importarli in un file che ho già fatto e poi andarvi a puntare quel determinato stile e detto questo vi dicevo oltre a se volete personalizzare la parte generalmente quella che si fa è quella dei tubi che si va diciamo ovviamente a pubblicare come tubi preferiti chiaramente occhio quando dovete fare magari il tubo che magari è rigido con i raccordi anche il gomito dovrà seguire la stessa tipologia di ipart quindi se ho previsto che nel tubo ci sia ad esempio un pollice due pollici tre pollici quattro pollici come scelta del diametro quando poi ci vado ad accoppiare il gomito che ho fatto magari sempre io come parte personalizzata devo dargli anche lui le stesse tipologie di variazione del diametro quindi uno due tre quattro pollici se mi fermassi al tre pollici quando poi vado nello stile non mi proporrà mai di mettere un tubo da quattro pollici perché non esiste il raccordo con la possibilità di avere il quattro pollici come diametro quindi poi quando lo mettete nello stile occhio perché lui vi propone solo i diametri che sono compatibili ad entrambi i raccordi barra tubo detto questo quindi voi potete nella parte di centro contenuti pubblicare non solo tubi ma anche tutte queste tipologie di oggetti generalmente stiamo parlando di raccordi piuttosto che ti piuttosto che anche valvole ok quindi se dovessi cambiare magari la tipologia di valvola la posso la posso impostare nel centro contenuti quindi con questo siamo arrivati in fondo